diciamo tutorial conclusivo infatti l'altra volta ho portato il tutorial sulla difesa oggi invece vi porto il tutorial sull'attacco quindi come attaccare su FIFA 21 per farlo andiamo ad analizzare una partita che ho disputato in settimana di allenamento contro Fabio Denuzzo quindi comunque un avversario di altissimo livello proprio per farvi vedere quelli che sono i pattern di attacco che uno va a utilizzare sempre indipendentemente dall'avversario non ho scelto un avversario tra virgolette più abbordabile proprio per evitare farvi vedere magari troppi filtranti un gameplay troppo frenetico cosa che appunto non va bene contro tutti i tipi di avversari vi faccio una rapida premessa perdonatemi se ogni tanto mi vedrete svalvolare con la testa purtroppo non mi sento propriamente benissimo ma va bene e niente vedrete anche sullo schermo un software perché farò delle pause e vi andrò a evidenziare determinate cose con questo programmino che ho preso per voi quindi spero che il video vi piaccia e niente andiamo immediatamente con il solito cambio di scena in game quindi eccoci immediatamente qua e direi che possiamo partire tolgo il cursore vedete la barra laterale non vi da eccessivamente fastidio magari alziamo anche la qualità perfetto dovrebbe un attimino cambiare la qualità si spera bene vedete come immediatamente prima azione d'attacco io parto cercando di allargare la mia manovra di gioco vedete come sono andato sul terzino poi piano piano cambio fascia arrivato sull'altro terzino una manovra molto alvolgente guardate qui come mando palla su Neymar vado lì torno dietro palla su Mendy con calma Gullit Mendy ancora Mendy cerco campo poi palla per Ronaldo Gullit dentro finta Bappé tiro e qua io andrei a fare la prima sosta e il primo back tornerei un attimino indietro perché? l'azione d'attacco inizia molto prima di quello che pensate voi ragazzi miei di fatti quando voi state attaccando in base ai movimenti che fate con il portatore di palla i vostri giocatori non controllati andano a fare dei movimenti di conseguenza quindi il vero momento dell'attacco è quello proprio di andare a far muovere i vostri giocatori senza palla in base a quelli che sono gli spazi che volete fargli attaccare questa che adesso ho fatto io è la cosiddetta azione a scaletta la faccio sempre dall'esterno al centrocampista passaggio diretto dentro perché so che l'attaccante va a tagliare lì mi giro rapidamente segno guardate vi faccio vedere subito guardate qui la palla con Neymar ok? con Neymar poi torno indietro e mi appoggio verso Mendy ok? ve lo evidenzio anche così flexo questo programma che mi sono procurato ok? Mendy è in questa posizione qua vedete come con Mendy in posizione in posizione del vertice alto dell'aria chiama Gullit in questa posizione ok? quindi io do immediatamente palla a Gullit perché cosa so? so che dando palla a Gullit e Gullit avanzando in questa zona accadranno due cose ossia Mbappé verrà verso questa posizione e Ronaldo verrà verso quest'altra vedete che già qua si sta fermando per tornare indietro quindi andiamo avanti vi cancello questi sgorbi e come potete vedere accade esattamente quello che vi dicevo vedete? Mbappé scambiando poi nuovamente palla con Mendy si è portato in quella posizione Ronaldo è venuto fuori io continuo il mio giro palla guardate in quest'altra situazione invece palla ancora con Gullit ok? io che cosa mi accorgo? immediatamente io so non è che me ne accorghi io lo so che dando palla a Gullit e facendo questo movimento o comunque temporeggiando in questa zona accadranno due cose Ronaldo cercherà di venire qui ma vedete Mbappé? Mbappé si è già messo con il corpo per tagliare in questa zona ed è esattamente quello che accade di fatti la palla arriva a Gullit aspettate che devo mettere il cursore la palla arriva a Gullit a Ronaldo ancora Gullit dentro per Mbappé che ha finito il taglio segno semplicissimo cioè veramente facile ma perché ho fatto questa azione? perché io sapevo che muovendo palla dall'esterno verso il centro dall'esterno verso il centro dall'esterno verso il centro dal centro verso l'area io so che i miei attaccanti fanno questo movimento e lo fanno sempre con qualsiasi tipo di modulo certo magari con il 4-4-2 e il 4-3-1 vista la posizione dei giocatori è un movimento un po' più congeniale ma questo movimento a scaletta per me è la base di tutte le azioni di attacco a prescindere dai moduli che andate a utilizzare a prescindere dall'avversario che avete contro l'obiettivo deve essere sempre quello di arrivare bene o male sul fondo tornare verso il centro temporeggiare servire l'attaccante in aria e in materia tale da girarvi e andare a segnare io adesso non vi sto dicendo di fare questo e basta che apparentemente diventavate prevedibili no? ovvio è chiaro che comunque le situazioni di attacco variano a seconda degli scenari è chiaro avete un avversario un po' più semplice sulla carta giocate in maniera magari un po' più diretta vedete che questo vi lascia parecchi bughi fate 1-2 vedete che non vi sta dietro lanciate in profondità eccetera eccetera però appunto quelle sono situazioni e non sempre è facile tanto qua gran difesa non è semplice appunto trovare sempre avversari che soffrano questo stile di gioco mentre tutti bene o male soffrono la manovra lenta ma neanche lenta una manovra di gioco ragionata in maniera tale che voi sapete sempre quello che state facendo guardate qua ancora una volta la palla sull'esterno al centro Gullit su Canté Gullit su Canté Canté Ronaldo Canté la palla dove arriva di nuovo sull'esterno per Mané con Mané io cerco con pazienza ancora una volta qua forza un po' troppo il passaggio con Semedo e glielo riconsegno purtroppo nelle sue nelle sue mani ma vedete come il pattern è quello anche lui fondamentalmente stessa cosa palla sull'esterno dentro stavolta ottima chiusura con Mendy e io ricomincio raga con pazienza palla su Mbappé mi appoggio sui centrocampisti che per me svolgono un ruolo fondamentale ragazzi centrocampisti in qualsiasi modulo svolgono un ruolo fondamentale perché se voi quella manovra la iniziate a fare con con gli attaccanti o gli esterni tirate via un uomo dall'attacco qui stessa cosa è successa esattamente guardate qua palla dall'esterno ok dall'interno diciamo dal centro qua immaginatevi che magari c'era Gullit ok che ha allargato palla verso Neymar va bene io con Neymar cosa ho fatto sono andato qua ma perché sapevo che Mbappé sarebbe andato a tagliare da quest'altra zona giusto infatti è proprio quello che accade vedete io con Neymar aspettate che vi cancello questa linea io con Neymar vado ad attaccare il lato il vertice alto faccio una skill so che Mbappé sta tagliando in questa posizione gli servo palla ancora una volta come prima giocata classica ovvero finta sul primo controllo per mandare a vuoto il difensore e tiro quello che sarebbe dovuto essere un gol purtroppo tira un po' così il buon il buon Mbappé anzi qua la finta manco l'ho fatta forse con la finta avrei segnato perché avrei indirizzato meglio il corpo però avete visto come la situazione è sempre quella altra una situazione classica ad esempio anche da calcio d'angolo per esempio faccio sempre questo passaggio fuori ok e poi guardate come tiro fuori la squadra e arriva quasi sempre un giocatore in posizione centrale qui lui è stato bravo a coprirmi quindi sono ritornato fuori ho dato poi palla a Mané ho cercato questo passaggio verso Ronaldo che era totalmente inutile di fatti lui stava per ripartire però la palla la recupero io ancora una volta palla su Mendy su Mbappé su Neymar vado al centro qui magari l'ho anche cercata l'azione offensiva ci sta nel senso l'azione più diretta non ho resettato l'azione sulla fascia perché c'era spazio quindi quello spazio l'ho aggredito ho provato a fare una skill e ho provato a puntare direttamente l'uomo non c'è bisogno ovviamente come vi dicevo sempre di fare la stessa cosa guardate qua però ancora una volta parla in fascia poi palla su Ronaldo mi accentro però ricomincio dai centrocampisti in maniera tale che non tolgo uomini dall'area vedete anche immediatamente palla su Neymar subito per Gullit perché l'attaccante deve ricevere l'ultimo passaggio qua bella palla per Neymar vedete come temporeggio vado avanti dietro perché so che questo movimento avanti dietro mi porta Mbappé fuori guardate infatti ve lo faccio vedere guardate su questo movimento avanti dietro dopo la Veronica avanti dietro avanti dietro osservate bene Mbappé come copre tutta questa area guardate come torna anche indietro guardate qui ve la tengo evidenziata guardate torna indietro viene dentro questa area poi lui per troppo mi recupera palla però spesso e volentieri voi non ve ne accorgete ma in realtà i goal iniziano proprio da quelli che sono tutti questi movimentini perché i vostri giocatori si muovono di conseguenza non basta non serve necessariamente fare la skill dribblare l'avversario in uno contro uno epico basta semplicemente conoscere quelle che sono le posizioni che i vostri giocatori andranno ad occupare con pazienza con calma ovviamente perché è una cosa che acquisite chiaramente col passare del tempo li dovete osservare i vostri giocatori a seconda dei giocatori che avete ovviamente faranno determinati movimenti ma questo movimento a scaletta venirà a uscire bene o male lo fanno tutti che potete avere Mbappé Mertens Lapadula voglio dire cioè stiamo parlando di schemi standard pattern del gioco che sono situazionali ovvero una volta che con la situazione si attiva boom scattano quindi Mbappé viene dietro l'attaccante viene dietro eccetera eccetera guardate ancora come una volta io gioco con l'attaccante come se fosse un pivot per chi conosce il basket quindi una boa con la quale giocare di sponda per mandare poi l'esterno guardate movimento indietro movimento indietro movimento in avanti e quello è un altro movimento classico che vi voglio andare a far vedere perché arrivati in questa situazione tra l'altro anche l'orzaiolo vabbè praticamente in fin di vita arrivati in questa situazione movimento indietro movimento in avanti in quest'area qua di manee esattamente che cosa fa? fa sì che Mbappé aggredisca quest'area tra i due difensori che è letteralmente vuota guardate ve la lascio evidenziata guardate come Mbappé va a buttarsi là dentro esattamente là dentro ovviamente poi si è spostata l'inquadratura comunque tra i due difensori centrali però qua ovviamente mi si è chiusa l'opportunità di poter di poter effettuare un passaggio e di conseguenza deciso saggiamente di ricominciare l'azione quindi scaletta ancora una volta tra cante e gullit palla ancora su su Neymar con pazienza torno indietro perché so che l'attaccante si butta dentro palla verso anzi neanche verso Mane mi sono preso tutto il campo decido di giocare con Neymar palla dentro verso Mbappé e bravo lui a chiudermi però vedete come si ripropongono gli schemi poi come si intercambiano le situazioni di gioco non ci stiamo inventando niente raga è questo vedete anche lui come cerca sempre la fascia ovviamente cerca la giocata larga cerca di rientrare è così il pattern che va seguito è sempre lo stesso guardate qua persino cante si ritrova in fascia guardate io come aspetto l'inserimento dell'esterno che ho chiamato io con L1 mi fermo con una crocchetta cerco di aggredire l'aria non c'è spazio torno fuori guardate Mbappé come viene a rimorchio palla per Neymar palla poi per Mbappé che praticamente aveva occupato il ruolo di di Neymar e Neymar quello di Mbappé quindi hanno si sono scambiate le posizioni ma hanno fatto gli stessi movimenti palla dentro boom due passaggi rete facile facile esattamente fotocopia al primo avete visto come i movimenti sono stati sempre gli stessi avete visto come mia sorella urla come al solito ma non è un problema e avete visto come siamo entrati rapidamente velocizzando con degli scambi dopo aver tenuto palla tanto negli ultimi 20 metri e andiamo sul risultato di 2 a 0 al riposo quindi avete visto come queste situazioni di attacco sebbene siano tra virgolette sempre le stesse abbiano fatto male a uno dei migliori player in circolazione e avete visto come le abbia cercate insistentemente anche lui magari andiamo avanti facciamo un po' di flash forward e vediamo che inizia il secondo tempo e anche questo sarà vi dico ricco di spunti vedete come come al solito stavolta sul kickoff è lui a cercare questo rivo di giocata con Pelé esattamente palla poi verso Cullit apre tutto nella zona di Rashford con pazienza si appoggia su Mendy ruolo dei terzini fondamentale perché servono a tirare via l'uomo per un eventuale inserimento dell'esterno quindi vanno utilizzati i terzini assolutamente non ignorateli giocateci con i terzini quando hanno palla tra i piedi non ve ne liberate immediatamente perché svolgono un ruolo secondo me importante e decisivo così stessa cosa anche i centrocampisti non avete paura non abbiate paura di fare passaggi con Canteco Gullit eccetera Gullit certamente non abbiate paura che abbiate anche Sissoko giocateci ragazzi giocateci perché aiutano Allan questi qua vanno bene tutti il concetto è quello che rimane sempre uguale poi è chiaro a seconda degli interpreti uno lo va ad applicare e coniugare in maniera diversa ma fondamentalmente è sempre la stessa cosa vedete come lui sempre dall'esterno parla con Sanchez cerca di liberare un po' i suoi giocatori lui però almeno in questo frangente di gioco gioca tanto con gli attaccanti fuori dall'area di fatti sta facendo tanta fatica a creare qualcosa di pericoloso se ci fate caso vabbè che io sto difendendo anche bene poi qui fortunato in questi mille rimpalli per fortuna la palla finisce fuori qua era entrato un po' in maniera in maniera ambigua diciamo però vedete come bene o male lo schema sempre uguale palla dentro palla fuori ancora qua anche dal calcio d'angolo come ho fatto vedere quella situazione qui fa una finta di tiro una mezza crocchetta e mi pare che esatto non faccio l'intervento con Virgil non so non ho visto bene se non ho switchato eccetera comunque prendo gol una giocata che comunque ci sta da calcio d'angolo anzi io consiglio sempre di buttare magari palla fuori palla dentro poi un passaggio nell'area se vedete che c'è un vostro giocatore perché solitamente i calci d'angoli sono strani la palla passa sempre metti caso passa la palla in una situazione del genere boom tirate gol facile facile sto registrando questo video post well ci ho anche preso un gol da 30 metri da calcio d'angolo con Joe Gomez che praticamente mi è costato il 28 va bene la settimana scorsa ci ha pensato Allison stavolta ci ha pensato Joe Gomez e va bene così comunque come potete vedere il late motive riprende in un in una scia e in un circolo vizioso vedete come palla anche sulla rimessa laterale tra l'altro importantissime perché se perdete palla sulla rimessa laterale vi trovate sempre scoperti e quindi vi dico sempre alle volte si prende golle perché si attacca male e non perché si difende male qua se prendete contro piede sulla rimessa laterale siete brocchi voi perché togliete praticamente il terzino trovate la squadra sbilanciata e spesso vi partono qua avevo fatto un buon recupero alto però il contrasto non mi premia e vedete allora come la palla viene allargata a sua volta lanciata dentro in fascia però era fuori gioco ma vedete il pattern che si ripete costantemente palla dall'interno verso l'esterno e poi dall'esterno verso l'interno per cercare l'imbucata centrale è chiaro poi che skill e tutto quanto sono assolutamente cose che servono ma servono più per l'ultimo per l'ultimo controllo per l'ultima giocata non è che ci dobbiamo mettere a skillare chissà quanto chissà che o chissà che numeri vedete ancora una volta palla dall'esterno cercato l'imbucata verso il centro però con un po' troppa frenesia e quindi sono stato intercettato dall'avversario guardate qui come lui con Rashford si trovava in zona centrale e ha portato palla larga e guardate come continua a giocare anche con i centrocampisti come vi dicevo lui qui ovviamente ha Renato Sanchez e Gulit quindi anche lui due giocatori chiaramente che possono fare benissimo questa fase ma non vi scoraggiate se avete dei giocatori sulla carta un po' ovviamente meno tecnici utilizzatevi uguali non fa niente vi sbaglieranno l'ultimo passaggio magari eccetera eccetera ma nel momento in cui poi ci andrete a piazzare giocatori che invece quei passaggi sono in grado di farli vedrete come andrà tutto alla grande e poi non è detto perché quante volte vi è capitato che quei Sissoko e Yalan vi fanno le meglio giocate qua intanto ero in pallino poi lui è bravo con quest'ultima finta a mettersi la palla sul destro e a siglare il 2 a 2 ma io non demordo perché in cuor mio vedevo che stavo giocando bene vedevo che le mie azioni erano pericolose gli facevano male quindi tranquillamente senza frenesia riprendo a fare il mio gioco palla dal terzino verso l'esterno purtroppo palla un po' imprecisa da parte di Mendy qua rischiamo un'imbucata pazzesca che avevo pressato altissimo per cercare di recuperare palla ma non è andato non è andato a buon fine qui ancora con Bappé cerco il numero mi speed boost entro in area qui è un'altra situazione classica che mi porta infatti alla rete che ce l'andiamo a vedere perché una volta che noi aggrediamo qui e rientriamo ok guardate qua Ronaldo senza neanche che ve lo evidenzi ho già fatto il movimento l'avete visto ha tagliato proprio è venuto incontro poi dopo aver tagliato incontro dopo essere venuto incontro farà sempre questo movimento ad aggirare il difensore centrale a sganciarsi per ricevere palla quindi facile facile riceve palla finta di tiro orientata rete 3 a 2 sempre dall'esterno verso l'interno fateci caso proprio questo è apoteosi perché proprio dal vertice più alto una skill palla dentro per Ronaldo una contro skill ovvero la finta di tiro boom rete facile facile raga senza inventarci niente e vedete come lui ancora una volta riparta alla stessa maniera con Gullit cerca poi la palla per Pelé palla verso Rashford con Rashford cerca di allargarsi palla verso Mendy lo vedete è un pattern è un pattern continuo non ha paura di scaricare anche sui centrocampisti solo che vi ripeto lui magari questa partita qua visto anche il modulo che aveva giocava un po' tanto con le punte infatti spesso e volentieri si trovava le punte non in posizione però vedete poi come dando palla alla fine con Pelé si ritrovava sempre l'altra punta che giocava con il rumbo largo che gli aggrediva con lo spazio centrale pronta a ricevere l'ultimo passaggio è esattamente quello spesso Rashford veniva un po' fuori però appunto ogni modulo poi c'ha le sue peculiarità ma il movimento cardine è sempre quello qui magari vedete come cerco un po' più di velocizzare perché vedo che sta scoperto allora palla che dall'esterno va al terzino questa è un'altra giocata classica sempre però per andare ad attaccare quella che è il vertice alto dell'area di rigore avversaria qui cerco un passaggio di troppo con Kanté che non è proprio il maestro del centro campo in termini ovviamente di qualità di gioco perché per quanto riguarda la quantità gg per un golo e niente qua un buon recupero palla e allora partiamo con l'ultima azione ma come vedete sempre la palla che passa per il centro e finisce sull'esterno per essere portata avanti qua magari rallento anche un po' il ritmo visto che comunque ero in vantaggio mancava pochissimo cerco questo passaggio con il doppia per scavalcare la difesa palla che insomma finisce un po' nel vuoto e mi porta a casa la partita ma insomma non è quello l'importante l'importante era che vi dovevo evidenziare queste determinate situazioni di gioco spero che le abbiate capite spero che il video sia stato abbastanza chiaro spero che abbiate apprezzato anche questo tool che mi fa evidenziare le cose sullo schermo e niente raga fatemi sapere che ne pensate lasciatemi un bel like un bel commento lo sapete cose da youtuber che mi fanno piacere e comodo iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo veramente tanto bene e mi fa strapiacere e nada noi ci vediamo sul canale qui con un prossimo video in questi giorni vi seguo vi ricordo che dovete seguirmi ogni giorno in live sulla piattaforma viola e nulla trovate tutto in infobox e nada vi saluto fate bravi ciao ciao